Neve, forte vento, ghiaccio e temperature di molto al di sotto dello zero. Il maltempo come annunciato ampiamente ha colpito quasi tutto il Molise. In provincia di Campobasso i mezzi di provincia, dei comuni, dell'ANAS e i privati spartineve, spargisale in azione per pulire le strade, la Bifernina, la zona verso Foggia, l'area verso Vinchiaturo e Boiano. I mezzi che circolano procedono a rilento con difficoltà e servono in molti casi le catene. Almeno 40 centimetri caduti tra Campobasso, città e zone intorno. Molti di più a Campitello Matese, dove si sono registrati stamane meno 11 gradi e le bufere hanno bloccato la strada. Ci sono state difficoltà per alcuni pullman e turisti, come ci hanno riferito alcune persone provenienti da Lecce. Siamo venuti da Lecce a andare a Campitello Matese, ma è impossibile. Non si riesce a salire? No, abbiamo chiamato, gli impianti sono chiusi per bufera, le strade non sono state ancora pulite e quindi siamo rimasti qui a Campobasso. Nell'area verso il valico di Campolieto, fortissimi il vento e le bufere che accumulano la neve e rendono la visibilità ridotta o nulla. Situazione critica per vento e bufere anche da Fossalto a Schiavi d'Abruzzo. Problemi pure a Molise. Neve alta a Frosolone. Da Morrone e Ripabottoni hanno richiesto sale alla provincia. Ci ha riferito il presidente Battista che sta monitorando la situazione dalla sala Meteo in via Toscana nel capoluogo. In mattinata segnalati disagi pure nelle zone tra il bivio di Baranello e San Giuliano del Sannio. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco per macchine e tiri in panne, trasporto di alizzati. Forze dell'ordine pattugliano le arterie principali da ingotte alla tangenziale, dove sono sempre il ghiaccio e il vento a dare problemi. mezzi in azione anche verso l'ospedale Cardarelli, zona critica e da attenzionare per l'uscita di ambulanze e per le emergenze. A Campobasso città mezzi della Sia in azione, ma la neve che cade continua ad accumularsi e si crea ghiaccio anche sui marciapiedi. Senta, è pulita la città? Sì, sì, abbastanza. Almeno le strade principali non ci possiamo lamentare. Sono più le secondarie che peccano un po'. Io cammino a piedi perché amo la neve. La macchina ce l'ho attrezzatissima, ce l'ho in garage, però vedo che sia i marciapiedi sia le strade sono buone. Bisogna comunque avere o le termiche o le catene a bordo, che altrimenti si trova difficoltà. Questo all'interno della città? Sì, sì. Perché c'è il ghiaccio? Inizia a ghiacciare, continua a nevicare, quindi di conseguenza la neve si riforma. Sì, ci sta il ghiaccio. Stanno passando una continuazione. Benissimo, va bene proprio. Poi le stradine private, certamente, dobbiamo vedercela noi, ecco, questo è tutto. Non mancano le lamentele di chi vive nel centro storico. È brutto proprio, guarda. È bruttissimo, non vengono a pulire niente. Dove? In che zona? Vicoletto Sant'Antico, è andato sopra, è andato sopra, i monti. Quindi lì la situazione è un po' difficile? Sì, sì, è difficile, scendere, salire, è difficile. E qua la zona del centro storico, qua dove stanno le scalinate, la gente non può uscire, è pericoloso, perché si scivola. Noi bene o male ci arrangiamo sempre, soltanto che il comune, come al solito. È passato lo sparteneve stanotte, ma pulire qua non si vede nessuno. E per come ho sentito, ho detto il sindaco che non dobbiamo pulirci da noi, davanti a casa. Di saggi ci sono stati segnalati anche nella zona delle case popolari, in via Gorizia, in qualche contrada, a macchie e alle coste di Oratino. Per il resto la gente è ben equipaggiata, comunque uscita per la città per una passeggiata, per esigenze personali, i bambini per giocare a palle di neve. E c'è anche chi, temerario, non ha rinunciato a una corsa in pantaloncini addirittura. Intanto gli esperti parlano di situazione critica con precipitazioni abbondanti, almeno fino a domani, nel primo pomeriggio. Grazie.